E' stato presentato Gioi per sempre, diario di un commissario di polizia, l'ultima fatica letteraria di Salvatore Blasco. La presentazione si è svolta presso l'auditorium del liceo Mazzini di Locri. Importante il fatto che gli alunni delle quarte e delle quinte classi hanno potuto dialogare pienamente e intensamente proprio con l'autore Salvatore Blasco, grazie a spunti ricchi di interesse e curiosità. L'incontro ha visto la moderazione delle docenti Federica Malara e Girolamo Polifroni, quest'ultima vicepreside dello stesso istituto. Importante il saluto istituzionale del preside Francesco Sacco e l'arricchimento musicale e di intrattenimento del coro del Mazzini. Musica, cultura e approfondimento si fondono al Mazzini, una scuola che si conferma all'avanguardia e sempre in aggiornamento e in profondo rinnovamento. Noi abbiamo organizzato una due giorni proprio in prossimità della festa internazionale della donna per far riflettere i nostri studenti su due importanti tematiche che purtroppo sono all'ordine del giorno della cronaca, che è purtroppo la violenza di genere e poi l'intercultura. Lo abbiamo fatto nell'ambito dell'attività di educazione civica, quindi le quarte svolgono quest'anno questa tematica, l'intercultura e le quinte i diritti umani e in particolare la violenza di genere. Con la presentazione di questi due libri dello scrittore Salvatore Blasco vogliamo far comprendere come se una persona viene accolta, viene integrata, può dare tanto e può essere un arricchimento per la società nella quale si trova poi ad operare. Quindi chi arriva da noi non viene a prenderci nulla ma anzi viene a portarci qualcosa, ad arricchirci dal punto di vista umano, culturale, professionale e probabilmente anche economico. Poi per quanto riguarda l'altra tematica, la violenza di genere, molto presente, ogni giorno purtroppo sentiamo di qualche femminicidio, vogliamo che i ragazzi riflettano su questo importante tema e che comincino veramente ad operare come futuri educatori per cercare di sdradicare proprio dalle radici questo fenomeno, quindi attraverso l'educazione. Grazie. Grazie.